ciao benvenuti in questo nuovo video ragazzi per me è stato un periodo molto ma molto difficile ora solamente ora mi sto riprendendo da questo periodo mi scuso per l'assenza è durata circa due tre settimane che non pubblico video oggi volevo portarvi una nuova applicazione da farvi scaricare l'applicazione si chiama web ward che sarebbe un'applicazione che potete scaricare da play store con il mio codice promozionale che vi rimango anche giù in iscrizione in cui questo tipo di azienda ha deciso di espandere questo progetto finalmente disponibilità anche in italia di guadagnare soldi facendo camminate passi che otto in ottima soluzione in cui potete anche scegliere il vostro per esempio in questo momento il mio valore di word significa diciamo dei guadagni che sto facendo e di 2 euro e 15 in cui voi potete anche quando arriverete a una certa cifra per esempio 3000 di questi qua vi arriverà con un buon sconto di 15 euro su vostro conto 30 euro in base alle vostre esigenze ma non solo questo potete anche buoni acquisti per sport cure mediche diverse cose che potrebbero interessarvi sicuramente è un'ottima soluzione è un'ottima app in cui vi quando andate a cliccare sull'applicazione vi ricordo prima della mezzanotte ogni giorno di convalidare i passi in cui vi dice quanti passi avete fatto per esempio ho fatto in questo momento ottenuto uno solo di questa moneta in cui potete arrivare fino a 20 mila passi per accumulare in un giorno circa 50 o 60 di questi qua ma potete dopo aver scaricato l'applicazione in cui avete il regalo questi tipo di crediti potete avere anche che in base a quanti amici portate dentro a questa applicazione potete accumulare tanti fino arrivare ad acquistare bonifici soldi buoni acquisti su orologi telefoni qualsiasi cosa fino anche a donare a questa associazione in cui potete donare tranquillamente i vostri risparmi infatti l'attività potete anche scegliere guardare un video giocare un poco fare le sfide addirittura dove state voi di casa fate le sfide vincete una sfida daranno di più monete per guadagnare diciamo questi buoni regalo o questi soldi che vengono trasferiti sicuramente credo sulla carta o anche per diciamo più per buoni regalo che sarebbe un'ottima cosa se andate in un negozio voglio acquistare qualche telefono qualche vestito nuovo potete utilizzare utilizzare questi sconti di 15 euro 30 euro in cui invece di pagare una certa cifra pagate di meno e giocare un video gioco fino a potete vincere fino a 120 world guardare un video uno solo fare diciamo rispondere un soldaggio fino arrivare 80 80 di questi fino arrivare alle vincite per esempio per strada è un'applicazione molto utile anche per camminare e per chi fa i passi giornalmente sicuramente è ottimo anche per attività fisica per uscire un po di casa è un'applicazione da questa azienda molto molto curata sul mio punto di vista ci sta l'impostazione in cui sponsorizza un amico questo per esempio il mio codice di riferimento in cui potete utilizzarlo per guardare per esempio per me guadagno 100 di questi invece voi all'inizio con la creazione dell'account 200 grazie al codice sconto promozionale potete arrivare fino a 300 di questi appena il mio amico guadagna circa 400 di questi così a me arriverà la notifica anche a voi per esempio se sponsorizzate famiglia amici questi tipo di monete veramente è un'ottima soluzione in cui condividete il vostro commerciante aggiungendo i tuoi amici non fico al giornaliera tutti attiva tutti i tuoi bonus l'unica cosa che è un po strana che dovete mettere il codice fiscale e i vostri documenti anche per il bonifico coordinate bancarie libani in cui verranno messi diciamo i vostri risparmi i vostri soldi all'interno potete cancellare l'account poi appena finite qui vi dice direttamente account creato lingua tutte queste applicazioni quanti passi avete fatto durante la giornata quanti passi durante il periodo che avete utilizzato questa applicazione ragazzi credo con regali in cui è buona in pappa in cui potete anche andare alle barre esplorare la mappa promozioni in cui come ho detto sconti su diverse cose e con questo è tutto vi saluto da tecnogigi ci vediamo in un prossimo video è un'app molto utilizzata molto utile che stanno utilizzando molti vi consiglio di scaricarla ciao ragazzi